Buonasera a tutti, siamo arrivati al Giro di Boa dell'edizione 2015 di Giovene Eccellenza al Mercato, Nuovi Orizzonti, con Arianna Allio o Allio? Allio che arriva da Paesana, una delle titolari dell'azienda di famiglia, l'allevamento macelleria dei fratelli Allio. Che ci spiega quali sono le specialità, quali sono i motivi per i quali è stata selezionata tra tanti in questa occasione. Grazie. Allora, noi abbiamo un'azienda paesana, alleviamo bovini e suini, portiamo a macellare e poi trasformiamo la carne nella nostra macelleria. Qui produciamo quasi l'esclusività dei prodotti, tra cui prosciutti crudi, cotti, coppe, galantine, eccetera. I prosciutti crudi sono trasformati in azienda e poi portati a stagionare a Parma, mentre per quelli cotti vengono cotti a vapore e il resto viene stagionato nelle nostre celle, sempre in macelleria. Ma lei non fa tutto da sola, vero? Perché ho visto che c'è anche Mattia, vuole venire qui a presentarsi. Abbiamo la più giovane e il più, tra virgolette, anziano della famiglia. Buonasera a tutti. Dunque, tra l'altro, la Arianna si occupa della macelleria vera e propria, quindi della zona più a contatto con il pubblico, mentre invece Mattia è il vero protagonista dell'allevamento. Io mi occupo di animali vivi, proprio dalla nascita del vitello fino alla fine di tutta la sua vita e iniziamo con il far nascere il vitellino, occupandoci della madre e tutto. Lo svezziamo, lo ingrassiamo e poi, come diceva mia sorella, lo portiamo al macello e da lì poi viene ritirato e portato e lavorato nella nostra macelleria, dove l'altro fratello, che si occupa lui della macelleria, è lui proprio quello che si occupa della carne, il vero macellaio è lui. Un attimo, abbiamo dimenticato una cosa, il macellaio deve ancora arrivare, abbiamo dimenticato una cosa, di parlare delle dimensioni di questa azienda, non stiamo parlando di 12 vitelli e 4 o 5 suini, ma? Ci sono all'incirca 120 vacche, più i vitelli da ingrasso, le manze e una settantina di suini. Una dimensione mica da ridere, anche perché tra l'altro io ho visto in allevamento anche dei buoi da ingrasso, da spettacolari, quanti sono adesso? Ci sono 6 buoi adesso che li teniamo lì, li facciamo per 5 anni, li portiamo avanti, ogni anno abbiamo il nostro bue e da molto tempo andiamo sempre avanti con il nostro bue e in più avendo 300 capi nell'allevamento, un totale di 300 capi più o meno, e questi buoi, soprattutto del bue, ogni anno dopo che scendiamo dalla montagna, dopo che passiamo i 4 mesi in montagna, scendiamo e abbiamo la fiera, la vera fiera del paese, fiera d'autunno, dove esponiamo il bue e in più qua è il bello che vogliamo far conoscere a tutti. Ma questo dobbiamo tenercelo per dopo, perché se no gli spettatori poi, se qualcuno sente di là, gli togliamo tutta la sorpresa. Quindi abbiamo detto un numero importante di animali, sia bovini che suini, che vivono, vengono allevati, mangiano esclusivamente ciò che viene prodotto in azienda, quindi un circolo assolutamente virtuoso, la carne lavorata sia sotto forma di carne fresca che come di trasformati per i suini, tutte nella macelleria di paese, scusate, tant'è vero, una qualità, direi cristallina, tant'è vero che io so, viene addirittura usata nella mensa della casa di riposo e dell'asilo di Paesana. Sì, esattamente, riforniamo anche l'asilo di Paesana e la cosa che ci contraddistingue è che tutti i nostri prodotti sono senza conservanti, additivi aggiunti, senza coloranti, facciamo anche salsiccia, ogni prodotto fatto da noi non ha né conservanti né additivi aggiunti. Cerchiamo di fare il tutto più naturale possibile, dall'allevamento al prodotto finito. E' come se non bastasse, però qui abbiamo anche degli altri prodotti, non solo carni, suine, bovine, ma anche conserve, confetture, succhi di frutta. Siccome ultimamente non abbiamo abbastanza lavoro, abbiamo anche deciso di piantare qualche mirtillo e qualche melo, e dalla frutta abbiamo deciso di trasformare facendo dei succhi e delle composte che vengono sempre vendute nel nostro punto vendita, perché la maggior parte delle composte che si trovano al supermercato così hanno tantissimo zucchero e tanti additivi dentro che si possono evitare. Allora abbiamo deciso, siccome abbiamo tutta la roba naturale, di fare anche questa aggiunta per rendere sempre tutto il più naturale possibile. Hanno in progetto di aprire un panificio, così abbiamo il pane, il salame e succhi di frutta, così chiudiamo il discorso. Lasciamo la curiosità un pochettino per dopo, quando arriveranno anche gli spettatori e coloro che assistono poi allo show cooking, così avremo modo di parlare anche con la lady chef Andrea Pellegrini, dei piatti preparati con la carne della cascina aglio, e di tutto quanto si troverà stasera in serata. Grazie a tutti, a più tardi allora. Grazie, buona sera. Grazie molte. Perfetto. Grazie a tutti.